Adesso non possiamo più ridere, vediamo, ok, la prima faccia, ma quanto è bella, ma chi è questa faccia, è bruttissimo, e non dobbiamo, è la stessa faccia, ma vabbè, io non ho riso. Ok, stavolta però non parlerò, ok ragazzi, non fa per niente ridere? Ok. 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 Ok, qua si è passato un minuto. le stesse facce basta io chiudo il video ciao